Musica Ho il piacere di presentarvi la professoressa Deborah Lipstadt Qualunque sia il motivo per cui le persone diventano negazioniste spesso nasconde scopi che non vogliono ammettere Perché denigra costantemente il lavoro di David Erling? Si possono avere opinioni sull'olocausto ma non parlerò mai con chiunque dica che l'olocausto non è avvenuto Professoressa Lipstadt Sono io quel David Erling Io non intendo discutere con lei, non qui, non adesso, mai Perché non può Vero? Erling ci ha notificato la causa intentata alla Corte Suprema La signora Lipstadt ha portato un consistente danno alla mia esistenza professionale Cosa hai detto di lui? Credo di averlo definito un bugiardo e un falsificatore della storia È meglio che ti cerchi un avvocato Negli Stati Uniti c'è la presunzione d'innocenza Non il Regno Unito Questo caso coinvolge te Ma non riguarda te Auschwitz è il luogo simbolo dell'olocausto Quindi è il luogo simbolo di chi lo nega Non c'era nessuna camera a cassa ad Auschwitz È una delle più grandi macchine per uccidere della storia Sappiamo cos'è, il problema è provarlo E se perdessimo, diventerebbe accettabile dire che l'olocausto non è mai avvenuto? La parola negazionista è particolarmente crudele Libertà di parola significa poter dire quello che vuoi Ciò che non puoi fare è mentire e aspettarti di non essere tenuto a risponderne Come lo dimostra? Dove sono le prove? Non tutte le opinioni sono uguali Non sono razzista La terra è rotonda, le calotte polari si sciolgono e Elvis non è vivo Io non attacco la libertà di parola Difendo solo il diritto di lottare contro chi vuole sovvertire la verità